Prima di iniziare il video, vorrei ricordarvi di premere il pulsante, iscriviti, e di lasciare un mi piace. Grazie. Nonostante il divorzio tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sia stato ufficializzato circa sei anni fa, sembrano essere riusciti a mantenere un rapporto civile per il bene del loro figlio, Nathan. È interessante notare che sono stati spesso visti insieme in vacanza o in altre occasioni speciali, in cui il loro primogenito era presente. Recentemente, Elisabetta ha ammesso di avere una relazione amorosa con l'imprenditore toscano Giulio Fratini, che ha conquistato il cuore della bella Elisabetta. Quest'estate, i due sono stati avvistati in vacanza insieme a Capri, e i paparazzi non hanno perso l'occasione di fotografarli, rendendo queste immagini virali sul web. Ma c'è di più, circolano voci da un po' di tempo riguardo a una presunta gravidanza di Elisabetta Gregoraci, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Questa eventualità ha riportato alla mente un vecchio accordo tra la showgirl e l'ex marito Flavio Briatore, di cui si era già parlato quando Elisabetta partecipò al grande fratello Vip. In base a tale accordo, nonostante non fossero più ufficialmente una coppia, i due dovevano mantenere un certo grado di unità familiare per il bene di Nathan. Questo spiega perché sono stati spesso visti insieme in vacanza e in altre occasioni. Ma c'è un ulteriore dettaglio interessante. Secondo le clausole di questo accordo, a Elisabetta era stato vietato pubblicamente di apparire con un altro uomo per almeno tre anni. Questo rappresentava una sorta di restrizione che impediva interferenze da parte di terze persone nella loro situazione. Ora, dato che sono passati quei tre anni, sembra che Elisabetta abbia deciso di uscire allo scoperto con la sua relazione con Giulio Fratini.